Dopo aver parlato di ciò che accade nei vari Stati europei ed aver analizzato uno sconvolgimento enorme per tutta l'Europa come la peste, è tempo di tornare in Italia, in modo particolare nell'Italia del Nord, per vedere cosa sta accadendo ai comuni italiani e come si riorganizzano e come cambiano nel corso del XIII e del XIV secolo. Già abbiamo detto che i comuni italiani erano caratterizzati da una grandissima litigiosità, c'erano delle fazioni molto forti, delle lotte violentissime, degli episodi di guerriglia, di guerra, e abbiamo anche detto che all'interno dei comuni italiani c'erano dei grandi cambiamenti, c'erano nuovi ceti sociali che nascevano, che si arricchivano e che diventavano sempre più potenti, mercanti, banchieri e una delle motivazioni di lotta era proprio la rivalità tra gli antichi potenti, tra i nobili che spesso ormai vivevano in campagna, nei castelli, e i nuovi ricchi, i nuovi potenti. Questo fenomeno si arricchisce ancora di più e ha un nuovo capitolo nel passaggio dai comuni alle signorie. Cosa succede? Succede che a partire dalla seconda metà del XIII secolo abbiamo un cambiamento. Quei nuovi centi sociali, quei nuovi arricchiti hanno un'ulteriore modifica al loro interno e cominciano ad esserci in ogni città alcuni personaggi veramente ricchi e veramente potenti. Persone che grazie ai commerci, grazie agli investimenti bancari hanno fatto tantissimi soldi, sono più ricchi di qualsiasi altro cittadino e possono addirittura arrivare a permettersi di pagare delle guardie, di pagare dei soldati che li difendano, li proteggano e magari vadano anche ad attaccare qualche loro nemico. Piano piano così si passa a una situazione in cui poche famiglie ricche, armate, potenti, prendono il potere. In modi diversi, in tempi diversi, ma piano piano quasi sempre accade che in tutte le grandi città italiane il potere viene preso da una famiglia che a volte direttamente, a volte indirettamente come a Firenze dove sulla carta rimane presente una repubblica, ma in realtà c'è una famiglia che controlla tutte le istituzioni di questa repubblica, i medici ovunque dicevo abbiamo questo passaggio, un passaggio dal comune alla signoria. Come avviene questo passaggio nello specifico? Cerchiamo di essere un pochino più precisi anche se, pure in questo caso, dobbiamo dire che, come sempre, le modalità sono tante, sono diverse e a volte anche nella stessa città possiamo passare da un signore a un altro con modalità diverse. Ma in generale il passaggio dal comune alla signoria può accadere in tre modi. Può accadere che un signore, il capostipite di una famiglia molto ricca e potente, utilizzando tutta la sua forza, la sua ricchezza, il suo esercito, prende il potere. Si stufa delle istituzioni comunali che magari non lo appoggiavano a sufficienza, non gli davano abbastanza libertà e quindi con la forza prende il potere, prende il controllo della città. Oppure può accadere che quel signore prenda il potere senza utilizzare la forza, ma con il consenso del popolo. Può succedere, per esempio, come già abbiamo detto poi in casi passati, che il popolo sia ormai stufo di vedere delle continue lotte, di vedere delle continue guerre tra i suoi concittadini. E quindi arrivi al punto da rinunciare alla libertà, ma scambiarla con la pace. Quindi affidare tutto il potere a un unico signore, che magari sì, ti toglie la libertà, ma almeno pone fine a delle lotte fratricide e continue che avevano ormai stancato tutti. Altre volte può accadere una variante di questa seconda situazione, cioè che addirittura il signore arriva da un'altra città. È un podestà, o una persona che viene chiamata a svolgere un ruolo simile a quello che avevano i podestà alcuni secoli prima, viene chiamato per portare la pace e proprio perché riesce nel suo operato, finisce per diventare un signore, un padrone a tutti gli effetti. A volte capita che queste signorie durino poco e magari dopo pochi anni un signore viene rovesciato da una rivolta del popolo o da un signore più potente di lui che gli porta via il posto. Molte altre volte invece accade che questo potere, conquistato in maniera provvisoria, in maniera diciamo così concreta, ma senza nessun documento ufficiale che testimoni questo passaggio, ebbene a volte viene che questo signore riesca ad avere un riconoscimento ufficiale. Lo può avere dal papa, lo può avere dall'imperatore, ma molto spesso accade che in cambio di denaro, in cambio di promesse, a un certo punto arrivi un documento ufficiale in cui il papa, per esempio, se ci troviamo in una zona italiana sotto il controllo dei Guelfi, in un documento affermi che il tal signore è ufficialmente il duca, il signore, il principe, ecco la parola giusta forse è quello, di una città. Oppure nelle zone invece più vicine ai Ghibellini è l'imperatore, che però fa la stessa cosa, in cambio di soldi, di promesse, di promesse di sottomissione, compila un documento in cui dice che il tal signore è il principe della città. E quindi abbiamo a tutti gli effetti questo passaggio, quasi ovunque. Un passaggio che inevitabilmente ha delle conseguenze. La prima conseguenza, quella più evidente, è il fatto che abbiamo la fine delle libertà comunali. Come già vi ho detto prima, i cittadini scambiano la libertà con la pace. Quindi, per ottenere la pace, rinunciano alla loro libertà. Non è più come prima, in cui tutti si trovano in assemblea a decidere cosa fare, a decidere se entrare in guerra, se mettere una tassa, se costruire una strada. Ma ora c'è un signore, comanda lui, decide lui, e chi si mette contro il signore fa una brutta fine. Quindi, di fatto, si passa a una situazione di tirannide. È chiaro che alcuni di questi signori sono più spietati, altri sono più liberali, lasciano più libertà alla popolazione, ma comunque non c'è più la libertà di prima. Seconda conseguenza, cambia il modo di combattere. Se prima i cittadini, sentendosi tutti parte di una città, quando c'era una guerra, si armavano e ognuno come poteva scendeva in campo, c'era chi arrivava con il cavallo perché era più ricco, chi si procurava una semplice armatura, chi semplicemente andava a dare una mano agli altri, ma tutti si sentivano partecipi della guerra, ora che il potere non è più in mano a tutti i cittadini, ma in mano a pochi signori, è chiaro che le persone in guerra non ci scendono più. E il signore deve ricorrere a dei soldati di professione, a delle truppe mercenarie, come dice il nome stesso, si spostano come dei mercenari, pagati. Assistiamo quindi a un fenomeno che procurerà molti problemi all'Italia, cioè il fenomeno delle compagnie di ventura, questi eserciti guidati da capi carismatici, che si spostavano da un signore all'altro a seconda di chi li pagava di più. erano simili un po' ai calciatori del calcio di oggi, che magari passano da una squadra all'altra perché una squadra offre uno stipendio più grande. Così facevano anche queste truppe mercenarie, che si spostavano, minacciavano il signore di mettergli a ferro e fuoco la città se non li avesse pagati, e diventavano un problema a volte anche molto complicato da risolvere. Terza conseguenza, il potere ha una nuova immagine. Provate a mettervi nei panni di uno di questi signori. È riuscito con la forza o con il consenso del popolo a ottenere il potere, però a questo punto il potere lo deve mantenere, lo deve conservare. Cosa può fare per mantenere, per conservare quel potere? Sicuramente rafforzare il suo esercito, e quindi truppe mercenarie, investimenti in armi, in fortificazioni. Ma non basta. Deve dare alla popolazione e ai suoi nemici l'immagine di un signore forte, potente, ma anche amante della bellezza, amante dell'arte. Ed ecco quindi che iniziano ad essere costruiti dei palazzi signorili particolarmente belli, iniziano ad essere fatti dei quadri, degli affreschi, iniziano ad essere chiamati i migliori artisti nelle corti delle città. Si pongono quindi le basi a quel grande fenomeno che studieremo all'inizio dell'anno prossimo, che è il rinascimento. Cioè un rifiorire dell'arte, della letteratura, della pittura, dell'architettura, insomma di tutte le forme artistiche in Italia nel corso del XV secolo. Ma ci arriveremo poi più avanti. Insomma, questo passaggio dai comuni alle signorie ha molte conseguenze, qualcuna più positiva e qualcuna più negativa, ma si impone quasi ovunque. E quasi ovunque questi signori, dopo aver conquistato la loro città, chiaramente non si limitano alla città stessa, ma vogliono allargare sempre di più il loro dominio, scontrandosi magari con un signore confinante, dando vita a nuove guerre e alla nascita di stati regionali, cioè di stati più estesi. Non c'è più, per esempio, solamente la città di Firenze, ma ci sarà tutta la Toscana, perché Firenze, con il suo signore, è riuscito piano piano a sottomettere anche tutte le altre città toscane e a metterle sotto il suo controllo. Ecco che quindi allora abbiamo la nascita degli stati regionali e l'Italia diventa questa specie di arlecchino, che vedete in questa cartina datata a 1494, ma in generale possiamo ritrovare una situazione simile per tutto il XV secolo. Un'Italia caratterizzata da uno stato del Sud, il regno di Napoli, il regno di Sicilia, e poi a nord tanti piccoli stati, tanti ducati, sotto il controllo di signori che sono riusciti finalmente ad ottenere da parte del Papa, dell'imperatore, il riconoscimento del loro potere. Quindi il Ducato di Savoia, a nord-ovest, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, questo era un caso particolare, non ci sarà mai una signoria, ma ci sarà una aristocrazia, un ristretto numero di famiglie che controllava il potere e prendeva le decisioni. La Repubblica di Firenze e altri staterelli attorno a Firenze come la Repubblica di Siena che poi da un certo momento in poi saranno sottomessi. Lo Stato Pontificio, ecco, questo sicuramente è un'altra caratteristica particolare, cioè quello Stato sotto il dominio del Papa, della Chiesa, che molto spesso poi lasciava spazio nelle singole città a rappresentanti pontifici che a volte avevano una maggiore e a volte una minore libertà. E poi, come detto, il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia. Questo stadio sarà uno stadio che durerà per molti secoli, che porterà conseguenze negative, soprattutto a lungo andare, perché creerà delle divisioni fortissime in Italia e mentre le altre nazioni europee stavano ormai creando i loro stati, pensate alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna, l'Italia continuerà ad essere suddivisa in tanti pezzettini e queste suddivisioni porteranno poi al declino italiano. Ma prima di arrivare a questo declino, questi stati saranno anche la fortuna dell'Italia. nasceranno delle signorie molto prestigiose, molto grandi, molto belle, che entreranno nella storia d'Italia e la cambieranno grazie ai palazzi, alle città, alle sculture, alle opere d'arti incredibili che molto spesso, ancora oggi, caratterizzano gran parte delle città italiane. Come sempre, se avete dei dubbi, delle domande, potete scrivermi nella sezione messaggi del registro elettronico. Un saluto e ci vediamo la settimana prossima. e ci vediamo